Continuiamo con una serie di esempi di emissione di parcelle particolari, però emissioni manuali. Quindi continuiamo con gli esempi di gestione notule e parcelle manuali. Poi vedremo subito dopo come invece lo studio può automatizzare l'inserimento dei propri documenti, delle proprie notule e parcelle tramite gli strumenti che abbiamo reso a disposizione con l'anagrafica dei contratti, l'azienda di lavoro e il CDG dello studio. Quindi continuo con la gestione notule e parcelle inserendo per esempio una parcella ad un ente pubblico. Quindi c'è la possibilità sempre all'interno della nostra gestione notule e parcelle di emettere una parcella ad un ente pubblico e quindi con l'IVA di esigibilità differita, quindi con l'IVA sospesa. Come si fa? Il cliente chiaramente vado a richiamare un cliente che ha il flag ente pubblico, quindi all'interno di questo cliente ho indicato il parametro ente pubblico ad S. vado a richiamare la prestazione, ecco il programma mi propone di default 80 euro perché all'interno della prestazione ho inserito l'importo di listino base, quindi mi propone il listino base previsto per la consulenza fiscale io vado a mettere quello che effettivamente vado a chiedere al comune di Rimini, 100 euro. Confermo con ok, eventualmente inserisco altre prestazioni, l'abbiamo già visto quindi non mi soffermo più di tanto. Totale a pagare, quindi il netto a pagare è 106,88, confermo con ok. Per registrare la fattura in IVA sospesa è fondamentale quello che indico in parcella totalmente pagata perché se imposto S, quindi se creo la parcella totalmente pagata e quindi registro contestualmente anche l'incasso capite che voi l'IVA diventa esigibile contestualmente nel momento in cui registro appunto la parcella e quindi il programma registra direttamente l'AFE utilizzando l'IVA vendite esigibile. Se invece indico N, perché chiaramente molto spesso diciamo che quando si fanno consulenze ad enti pubblici o comunque prestazioni per enti pubblici è abbastanza difficile che l'incasso sia contestuale all'emissione del documento quindi parcella totalmente pagata indico N, a questo punto confermando con ok il programma mi avvisa che il cliente della parcella è classificato come ente pubblico, contabilizzare la parcella come fattura di IVA di esigibilità differita quindi volete registrare la fattura utilizzando la causale FS e IVA di esigibilità differita? Sì, oppure volete registrare comunque la parcella come FE e IVA liquidabile diciamo immediatamente? Se indico sì mi viene registrata la FS quindi sì, annulo la stampa perché è il solito modulo grafico che abbiamo già visto prima nota vedete che il programma ha registrato la FS utilizzando l'IVA ad esigibilità differita quindi registrando semplicemente l'APA con un ente pubblico e non incassandola ovviamente contestualmente all'emissione il programma registra già da solo la FS quindi è già tutto predisposto per quanto riguarda invece la registrazione di parcelle in regimi di IVA per cassa quindi se avete un cliente in IVA per cassa che deve mettere le parcelle in questo caso vado in un'azienda dove ho attivato l'IVA per cassa quindi in questa azienda ho attivato la parcellazione vedete in parametri professionisti studio tra l'altro questa è un'azienda addirittura di tipo impresa quindi io posso abilitare la parcellazione anche in un'azienda di tipo impresa poi lo vedremo anche nel dettaglio con la gestione delle Nasarco quindi il modulo di parcellazione posso ovviamente abilitarlo in questo caso in più in questa azienda ho anche abilitato l'IVA per cassa quindi nei parametri io ho addirittura abilitato l'IVA per cassa quindi questa azienda è a regime di IVA per cassa parcellazione studio, gestione notule parcelle PA richiamo un cliente 1000 euro di parcella, confermo con ok anche qui è fondamentale quello che indico in parcella totalmente pagata per il discorso che vi facevo prima se indico parcella totalmente pagata ad S è praticamente inutile registrare la fattura come IVA per cassa quindi con IVA ad esigibilità differita perché appunto viene portata in liquidazione immediatamente in questo caso appunto se voglio registrarla come FS parcella totalmente pagata deve avere l'indicazione ad N confermo con ok, solita stampa grafica che adesso non ci interessa prima nota, quindi viene registrata la FS automaticamente e viene utilizzato il conto IVA ad esigibilità differita quindi vedete il programma gestisce in modo totalmente trasparente per l'utente anche l'emissione in regime di IVA per cassa altro esempio facciamo un soggetto che gestisce la gestione separata dell'IMS anziché la cassa previdenza quindi in questa azienda PA3, in questo professionista F10, anagrafica azienda F4, dati aziendali parametri professionisti studio all'interno di questa anagrafica, di questo professionista ho indicato un 4% di gestione separata dell'IMS quindi questo professionista non è soggetto alla cassa previdenza nazionale ma alla gestione separata dell'IMS quindi sono andata ad indicare 4% in gestione separata dell'IMS e a soggettamento IVA per il 4% di IMS al 22% il resto chiaramente tutto come abbiamo già visto devo aver però inserito nei parametri di base conti automatici altri conti automatici devo aver inserito in gestione separata dell'IMS il conto che verrà utilizzato dal programma per la contabilizzazione del contributo IMS della gestione separata viene indicato un conto di tipo sospeso perché appunto all'interno dell'anagrafica del conto sospeso è già riportato qual è il relativo conto effettivo e quindi in base a quello che è la registrazione della fattura quindi se la parcella è totalmente incassata oppure no il programma utilizzerà un conto piuttosto che l'altro vediamo la registrazione quindi altra cosa importante prestazioni clienti ovviamente in questo caso ho dovuto inserire all'interno della prestazione gestione separata IMS ad S quindi mentre nei casi che abbiamo visto in precedenza dove era attiva la cassa previdenza era stata impostata ad S la cassa previdenza in questo caso avendo attivato la gestione separata dell'IMS per le prestazioni per le quali appunto voglio calcolare il 4% IMS devo indicare ad S ovviamente questo valore gestione notule parcelle inserisco la parcella attività varie per 1000 euro vedete che questa volta il programma ha calcolato il 4% di gestione separata dell'IMS non la cassa previdenza imponibile più esenzione 1000 euro di prestazioni più i 40 relativi all'IMS quindi l'IVA è di 228,80 il totale documento è di 1268,80 questa volta la ritenuta è calcolata anche sulla parte relativa alla gestione separata dell'IMS proprio perché la gestione separata dell'IMS è soggetta al calcolo della ritenuta d'acconto mentre la cassa previdenza no quindi negli altri casi la ritenuta d'acconto veniva calcolata solo sulle prestazioni e non sulla cassa previdenza totale da pagare 1068,80 quindi confermo la registrazione totalmente pagata diciamo di sì imposto la contropartita annullo la stampa grafica solita perché non ci interessa vederla prima nota la registrazione dell'AFE è fatta in questo modo quindi il programma è andato ad utilizzare il conto contributo 4% gestione separata dell'IMS che è il conto di tipo effettivo rispetto al sospeso indicato nei parametri nei conti automatici scusate e per il resto la registrazione è simile direi uguale come struttura a quello che abbiamo visto fino adesso guardiamo velocemente anche l'incasso che anche in questo caso non ha nulla di particolare rispetto a quello che abbiamo già visto quindi i soliti conti movimentati a livello di descrizione solo perché appunto i professionisti hanno a fine anno la necessità di stampare i famosi bollati che vi dicevo allora cambiamo azienda vedo che domande per il momento non ce ne sono quindi vi faccio vedere un'altra casistica particolare sempre a livello di gestione parcelle manuali non so se avete già seguito i corsi che sono stati fatti la scorsa settimana sull'emissione delle parcelle delle fatture elettroniche alla pubblica amministrazione quindi con la generazione dell'XML appunto per l'invio alla pubblica amministrazione vi riepilogo velocemente com'è possibile appunto emettere una parcella per un ufficio per un ufficio del ministero che ha aderito alla generazione della fattura elettronica quindi con un formato XML vi riepilogo appunto velocemente quali sono le impostazioni quindi diciamo che come primissima cosa dobbiamo inserire all'interno dell'anagrafica azienda quindi sono all'interno dell'azienda che deve mettere la parcella all'ente pubblico appunto che ha aderito alla alla fatturazione elettronica in dati aziendali c'è la voce trasmittente fattura elettronica PA allora all'interno di questa voce di menu noi dobbiamo andare ad inserire chi è il trasmittente chi fisicamente trasmetterà l'XML generato se è l'intermediario oppure se è l'azienda stessa se indico A quindi l'azienda stessa in questo caso appunto Rossi Mario devo preoccuparmi di aver inserito nell'anagrafica azienda la nazione IT all'interno quindi dell'anagrafica azienda se invece è l'intermediario che si preoccuperà appunto dell'invio del file XML generato quindi qua indico ID intermediario e poi chi è l'intermediario quindi qua devo indicare chiaramente il codice fornitore servizio telematico e a questo punto nell'anagrafica degli intermediari è necessario mettere la nazionalità quindi non so se l'avete già notato dalle ultime versioni all'interno dell'anagrafica dell'intermediario nell'ultima pagina c'è la nazione chiaramente anche il progressivo perché appunto viene aggiornato automaticamente anche il progressivo quindi in anagrafica azienda F4 dati aziendali all'interno del trasmittente fattore elettronica dobbiamo appunto andare ad inserire chi trasmette la fattore elettronica poi si va all'interno di numeratori e si crea un numeratore ad hoc quindi utilizzato solo per la fatturazione elettronica PA quindi si deve creare un numeratore apposta per l'emissione di queste fatturazioni elettroniche per la pubblica amministrazione poi nei parametri professionisti studio sono stati abilitati due nuovi pulsanti dove dobbiamo andare ad inserire il tipo cassa previdenza quindi l'associazione a quello che è il riferimento alla cassa per il quale è soggetta l'azienda che deve mettere appunto la fattura alla pubblica amministrazione il fondo previdenza oppure la gestione riferimento alla gestione separata dell'IMS nell'altro campo la causale pagamento è quella che viene utilizzata di solito per fare 770 quindi qua bisogna andare ad indicare qual è la tipologia di prestazione qual è la tipologia di causale pagamento che ha questa azienda perché è appunto un'informazione che serve indicare all'interno della fattura elettronica a questo punto si va nell'anagrafica clienti andiamo a richiamare il cliente ufficio del ministero eccetera eccetera perché dobbiamo andare ad inserire nel campo codice ufficio PA il riferimento al codice ufficio questa è un'informazione che chiaramente ci dà il cliente si imposta fattura PA ad S e ente pubblico ad S appunto perché è un ente pubblico poi all'interno delle condizioni commerciali c'è la voce fattura elettronica dove si va ad inserire qual è il sezionale IVA appunto dedicato alla fatturazione elettronica in questo caso appunto il 2 perché ho inserito nel sezionale 2 la numerazione dedicata appunto alla fattura PA quindi alla fattura per la pubblica amministrazione a questo punto bisogna preoccuparsi di inserire una stampante se già non l'avete relativa alla fattura PA quindi con il formato per la fattura PA potete scegliere come i formati gestiti i dispositivi gestiti per la fattura PA sono il file l'email se la parcella che andrete a demettere poi la invierete per email per esempio al vostro intermediario oppure la D di DocuVision se gestite direttamente anche l'invio tramite DocuVision che come sapete è possibile farlo ecco chiaramente quindi nel dispositivo di stampa si imposta F di file se si vuole salvare locale il file XML D di DocuVision se si vuole gestire tramite DocuVision anche l'invio la firma la sostituzione della generazione appunto del file tramite DocuVision per l'invio telematico oppure la E di mail se il file XML deve essere appunto inviato tramite email per esempio l'intermediario formato di stampa bisogna scegliere F che è quello dedicato alla fattura PA quindi si crea la stampante con le caratteristiche che vi interessano e si crea poi il modulo di stampa grafica quindi all'interno della modulistica grafica si richiama fra gli esempi Passpartout il modulo relativo alla parcella PA per la pubblica amministrazione quindi io adesso in questo caso l'ho già creato e mi ha richiamato quindi il codice PAE a questo punto andiamo a generare il nostro documento quindi vado in contabilità parcellazione studio gestione notule parcelle PA richiamo il cliente richiamo la prestazione non mi soffermo perché è tutto come prima chiaramente confermo con ok parcella totalmente pagata no ok questo è l'automatismo che abbiamo visto prima quindi ente pubblico non pagata non incassata contestualmente mi registra la FS se premo sì quindi gli dico di sì ed ecco che innanzitutto una volta selezionato il cliente ufficio del ministero eccetera eccetera il programma non so se l'avete notato forse sono andato un po' troppo veloce ha cambiato automaticamente il documento da PA l'ha impostato a PAE è andato a cambiare automaticamente quindi senza che io facessi nulla io ho registrato una parcella in modo assolutamente trasparente quindi ho lasciato il default di uno ho indicato documento PA è stato il programma che avendo fatto appunto le configurazioni che dicevamo prima ha cambiato in PAE ha utilizzato il sezionale corretto quello indicato dentro il mio cliente e sta generando il file XML per la parcella PA quindi non ha generato la normale stampa ma ha generato il file XML quindi se io premo su stampa ecco che mi viene generato il file XML nella directory che sono andata ad inserire ve lo rifaccio vedere perché prima sono andata veloce quindi io sto creando la PA con il sezionale 1 richiamo il cliente che ha le impostazioni per l'invio della parcella alla pubblica amministrazione il programma ha cambiato il documento in PAE e ha messo il sezionale corretto quindi come vedete è assolutamente trasparente per il cliente andare ad emettere questa tipologia di documento scusate e chiaramente appunto bisogna aver fatto le impostazioni che dicevamo che dicevamo che dicevamo